Il principe William e il principe Harry si rifiutano ostinatamente di riparare la loro relazione e nonostante i tentativi degli amici di mediare la pace, secondo un esperto reale l'autore reale Robert Lacey ha sostenuto che tutti hanno cercato e voluto che il principe Harry e il principe William riparassero la loro relazione tesa. Parlando allo US Today Show, Lacey ha affermato che i fratelli si stanno dimostrando ostinati. Sperava anche che la coppia sarebbe stata in grado di mettere da parte le loro divergenze per l'inaugurazione della statua della loro defunta madre Giovedì. Il signor Lacey ha dichiarato. Quando Charles e Diana si sono separati, i loro amici si sono uniti a loro, c'è stata una sorta di guerra aperta. Ora tutti vogliono riunire i fratelli ma al momento si stanno dimostrando ostinati. Speriamo solo che quando si tratta della rivelazione dello stato della loro madre Diana a Giovedì forse questo cambierà. Forse ci sarà una mossa in una direzione più positiva. Il signor Lacey ha precedentemente rivelato le sue speranze che la coppia migliorerà la loro relazione prima della presentazione. Parlando a Good Morning Britain ha detto. Si direbbe. Sicuramente quando si riuniranno per onorare la loro madre e ciò che la principessa Diana rappresentava, quello sarà il momento in cui possiamo sperare in una sorta di riconciliazione. Altrimenti se si limitano a comparire insieme davanti alla statua e non c'è più niente penso che concluderemo giustamente che è un gesto superficiale. Se stai erigendo una statua a Diana, chi l'avrebbe mai detto 25 anni fa? Altri esperti reali hanno evidenziato che, nonostante l'occasione, nessuno dei due fratelli sembra essere disposto a fare ammenda. L'esperta reale Roy Anicca ha dichiarato. Nessuno dei fratelli offre un ramoscello d'ulivo. L'editore reale stava parlando con un caro amico di entrambi i fratelli che secondo quanto riferito ha detto. Temo che sarà lo stesso del funerale del principe Filippo. Un cenno di riconoscimento. E questo è tutto.